Eur Iesus Christus, carissimi figlioli presenti in Cappella Domina Nostra e tutti voi cari figlioli che ci seguite attraverso l'Omario Domino. Oggi è la festa liturgica di San Giovanni de Mada. Questo santo fondatore dell'Ordine dei Madri Trinitani fu invitato dal Signore stesso a fondare questo ordine religioso. Nella sua prima messa, celebrata nel 1192, quando aveva già 40 anni, per quel tempo era un'età avanzata per diventare Tredi. Era già un'età considerata recessiva ulteriore, ma lui aveva lasciato il prestigio dell'insediamento di teologia a Tarigi, ancora prestigiosa Tarigi, per dedicarsi a Dio. E nella prima messa gli appare il Signore. Trovo questo esordio molto bello. Molte volte il Signore e la Santissima Vergine vengono incontro per delle grandi opere e manifestano un esordio in questi uomini e queste donne di Dio sovranaturale. Pensate all'opposto. Quando a sette anni e mezzo ride Gesù e la Madonna, che lo invitavano a trasformare i lupi in un perro, lui, San Giovanni Bosco, ha interpretato poi quella visione lì come appunto la vocazione, la visione della sua vocazione. Pensate a Padre Dio da Pietro del Cina, ancora piccolo, Francesco Forgione, e poi a cinque anni Gesù lo conduce a Piana Romana e gli dimostra il diavolo che distrugge le anime. E Gesù lo invita a combattere contro il diavolo. Pensate a Santa Teresa d'Arna, pensate a tutti i grandi santi o tutti coloro che nella Chiesa hanno avuto una missione. E molte volte questa missione ha avuto un esordio soprannaturale. E' quello che è accaduto anche a San Giovanni da Maddenata. La Madonna è venuta incontro agli schiali cristiani che hanno attraversato pene incantolabili. Venivano schializzati dai musulmani dal califato spagnolo e condotti schiali tra le catene e in mezzo a grandi sofferenze in Marocco. Si parla di migliaia e migliaia di cristiani tra la fine del XII secolo e il XVI secolo. E così il pianto, il dolore, le lacrime di questi credenti giunge a Dio e mentre la Madonna appare a San Pietro Lomasco per fondare l'ordine dei padri mercedari, e quindi Gesù appare a San Giovanni da Maddenata per fondare l'ordine dei padri infinitari. Tutte e due questi ordini chiamati a liberare gli schiavi cristiani. Gesù appare a San Giovanni da Maddenata e la sua vita è segnata da questo tesoro Dio. E poi noi sappiamo della sua esistenza che si è spesso fino allo strego per questa causa. Oggi le schiavitù sono tante, ma credo, non so se siete d'accordo con me, che la vera schiavitù, quella più dolorosa, è la schiavitù della menzogna. E la schiavitù della impostura, che soprattutto per essi mezzi di comunicazione, tiene schiave le anime nelle robe, tiene schiave le anime di una falsa chiesa, di un falso papa e di una falsa messa. E chissà che il Signore non ci scelta per andare anche noi insieme a togliere le catene con pazienza, spegnendo tutta la nostra vita. tutta la nostra vita per liberare da queste schiavitù odierne, che sono quelle della mezzogna, dell'impostura, della falsità, dell'ideologia. San Giovanni da Maddenata si spende fino alla fine. E poi a Roma, come sapete, ha incontrato nel 1209 San Francesco d'Assisi. Trovo molto bello questo rapporto di amicizia di Francesco d'Assisi, che altrimenti sarebbe rimasto del tutto isolato a Roma, rischiando molto. Quando oggi è importante anche, nella chiesa, coltivare questa rete di belle amicizie, anche tra di noi del piccolo resto, come ci ne andiamo, per farci forza e andare avanti insieme. San Giovanni da Maddenata accoglie a casa propria San Francesco d'Assisi e verosimilmente per la sua causa presso il Papa Innocenzo III, che era stato suo allievo di teologia. E oggi anche, ricordiamo il 2 febbraio, con la seconda delle tre ragioni, ricordiamo Santa Giuseppina Bachita. Ecco, questa santa di colore, la prima santa di colore, canonizzata da Giovanni Paolo II durante il grande giubileo dell'anno 2000. I suoi resti mortali riposano nel convento, nell'istituto delle scuole canossiane di Stio. E veramente questa santa, la gente l'ha servita in Italia da subito vicina. Perché? Perché aveva sofferto molto. La vita di Bachita è una vita per cui, addirittura, alcuni romanzieri volevano scrivergli la sua vita, il suo romanzo, è nata in Sudan, in Africa, schiava, è stata incisa in tutto il corpo, con ferite profonde, e poi curata con sale, i dolori in mani, ha conosciuto la schiavitù. Poi è stata venduta a un proprietario veniero italiano che l'ha portata con sé. Lei, a vero, a schio, e poi veneto, ha potuto conoscere Gesù e se ne è innamorata. È veramente stato un amore che è entrato nel cuore non si è rispetto. Bachita colpiva tutti per questo grande amore. Pensate che c'è qualcosa per sì, ma anche di esotico, di simpatico. Nel senso che le scolarestie andavano a farle visita e lei, poverina, doveva sottoporsi di continuo a questo racconto della sua vita, ma lo ha sempre fatto con il sorriso sulle labbra e la pace del cuore. Che figura enorme che è Bachita. E intercede molto, ottiene molto grazie. Diciamo che è una sacca molto attiva, Santa Giuseppina Bachita. È una sacca molto attiva, perché veramente ottiene tante grazie. Il miracolo che ha fatto per la canonizzazione è veramente clamoroso, ma tante persone che l'hanno invocata, l'hanno sognata, l'hanno vista, hanno avuto segni per la sua presenza, gli hanno chiesto di sperare la sua vita. E per qualche tempo sembrava che la sua biografia somigliasse o che la potesse perciò scavalcare a quella che nel frattempo era un bestseller, la storia di un'anima di Santa Teresa di Gesù e quindi Bachita non ha fatto niente di speciale se non invoccare la via dell'amore. Un atto d'amore, dinanzi a Dio, fiori cari, vale più di mille ore. Un atto d'amore per Gesù. Dall'altra parte dell'Italia settentrionale, Bachita vive in Veneto, dall'altra parte dell'Italia settentrionale, esattamente in Piemonte, vive Sor Consolata Petrone, una suona francescana alla quale Gesù insegna una preghiera che io faccio di mattina, prendo la corona e la ripeto per 50 volte perché basti per tutta la giornata. una formula semplicissima, direi quasi che dipone a rendere, ecco c'è, Gesù, Maria, vi amo, salvatevi, amo. Ma la stessa Sor Consolata quando Gesù le chiedeva di portare questa preghiera ai superiori, alla superiore, perché venisse approvata e diffusa, lei da prima che nel canale di comunicazione rimaneva un po' interdetta perché diceva, ma Gesù, ma tu mi dici di portare questa preghiera e assicuri grandi grazie e dici che salverai tante anime con questa sola formula? Com'è possibile? L'idea mia, un atto di amore duro vale mille apostolati. È proprio vero. Guardate un po' in giro, l'efficientismo pastorale di certe chiese ricche e potenti come quella tedesca. La Chiesa Cattolica di Germania, la conferenza episcopale tedesca degli escovi tedeschi, dei cattolici tedeschi, è una delle più picche al mondo, aprono dappertutto centri di volontariato di apostolato e ospedali o fanno profi per l'Africa, l'America Latina, l'Amazonia, il sud-est afiatico, ma tante volte, come vediamo, resta solo un aspetto di volontariato sociale, di impegno orizzontalista, perché manca il puro amore. Allora veramente Santa Giuseppina Patita, che ha condotto la sua vita lì, in quel convegno, in quell'istituto delle canossiane, poteva rimanere nascosta invece ad una perna, perché aveva tanto sofferto. Questo è un insegnamento per noi, ma non si è a pecia. Fiori cari, attenzione alla sofferenza. So per il piccolo messo quanti di noi soffrono malattie fisiche, morali, angosce spirituali. A prezioni che questa roba qui può sovraffarci, può condurci al cinismo, che significa un distacco crudele su se stessi e sul mondo, può condurci alla rassegnazione, e può diventare alla fine una barriera all'azione della grazia e dell'amore di Dio. Scriviamo oggi a Santa Patita che in cacera per noi lei che ha tanto sofferto, ma veramente tanto, Fiori cari, ha però saputo sempre far triomfare l'amore. Qui è la grandezza di Santa Patita. Qui è la grandezza di Santa Patita. Tra il dolore e l'amore ha fatto vincere l'amore. Non ha vinto il dolore. Non ha vinto la malattia. Non ha vinto la sofferenza che gli hanno infitta agli uomini. In lei ha vinto su tutto e su tutti l'amore di Gesù. Il suo proprietario terriero, siamo negli anni, diciamo, che è rivediato dopo la prima guerra mondiale e la trattava appunto come una schiava. Sappiamo che veniva flagellata, picchiata. Praticamente ha trascorso, fino alle soglie dell'istituto dove è entrata, una vita dove le picchiate di continuo. Continuamente. Picchiata, passolata. In Africa hanno tentato di picchiare, di pescarla fino alla morte. Non sappiamo poi neanche, per una questione ovviamente di decoro, diciamo, sacro, se non si è andati anche oltre, non si è tentato di andare oltre contro questa giovane nonna, contro la quale sembrava quasi che il diavolo e il male non esserci a conilsi. Forse perché? Il diavolo sapeva che da questa donna di colore avrebbe avuto una grande sconfitta. Sì, il diavolo ha avuto una grande sconfitta, perché la sagame maggioranza della gente, poi quando passa da queste prove, ce ne sono tante, e poi bestemmia Dio, si oppone a Dio, oppure approda forme di patologie comportamentali come il bipolarismo, un giorno so te e sono santo, un altro giorno sono una testa per tutti, oltre che per me stesso. Si approda forme di dipendenza dall'alcol, molte volte di nascosto, dal fumo, dal sesso, un sesso sfrenato che fa stare poi ancora peggio. Quanti vuoti interiori, quante zone l'ombra, il dolore inferto, inflitto dagli altri esseri umani, può veramente devastare. E invece, Santa Giuseppina, la vita, ha lasciato che questo dolore, che lei ha vissuto in una maniera, ripeto, chi conosce la vita, sa quello che diciamo, incredibile, ha lasciato che questo dolore, anziché, incrudelirla, anziché paralizzarla, la sublimata, ha usato il dolore, per andare a Dio. Quanti santi hanno fatto questo? Anche San Giovanni de Mata ha fatto questo. Ma il dolore può diventare una strada che conduce a Dio. Ed ecco l'ultimo aspetto, l'ultimo, il terzo aspetto, dopo San Giovanni de Mata, è Santa Giuseppina Battita, la Santa dell'amore puro, la Santa della vittoria, dell'amore sul dolore. Oggi celebriamo il primo giorno del trigo in onore della Madonna di Lug. Giovedì prossimo, 11 febbraio, tutta la Chiesa, si sposta realmente, spiritualmente, alla grotta di Massavie, dove la Madonna è apparsa, a Santa Bernadette, questa giovane fanciulla, dei PN.A., appartenente a una famiglia povera, il papà ingiustamente era stato messo in carcere, e loro sono caduti in disgrazia, sono andati a vivere nel casciò, che era una stanza affumicata, dove Bernadette si ammala ancora di più di asma, di malattie polmonari, e lei viene scelta dalla Madonna per quelle 18 apparizioni che vanno dal 11 febbraio al 16 luglio 1858. Bernadette, la Madonna le dice, non ti prometto la felicità in questo modo, ma nell'altro. E così allora noi da oggi iniziamo questo triduo, il triduo della Madonna di Lug, e preghiamo la Madonna immaginata di Lug, per tutti gli ammalati e i sofferenti, perché promenu pace, la preghiera, non è importante a tutti i costi star bene, se poi si è lontani da Dio. Quanta gente io vedo in giro, in giro, io sapete che prima del coronavirus viaggiavo moltissimo, che sa bene fisicamente questi uomini da fare, questi uomini di mondo, che poi stanno male dentro. Non è importante avere una performance fisica, se la si ha, tutto vuole benedito, però quello che è importante è avere Gesù nel cuore, è vivere la preghiera. Stavattino ho fatto un post sulla esitia, la preghiera del cuore, cara, la tradizione orientale, e poi nel Russia, con i racconti di un pellegrino russo, Signore Gesù Cristo, abbi, pietà di me, peccatore, questa preghiera che è sempre, quando noi, qualcuno oggi, dei più figli spirituali, più vicini, mi ha chiesto, padre, possiamo anche fare noi qui la preghiera del cuore? Ho detto no, abbiamo il rosario, il rosario è gli stessi effetti dell'esitia, e hanno fatto anche loro una corona come il rosario, e come noi sappiamo anche tante volte, iniziamo il rosario, siamo con la testa con un pallone, pensieri, problemi, preoccupazioni, agitazione, angoscia, tristezza, oppure, provenienti dal diavolo, fatica, tedio, sonno, sbaditi, noia, tedio, e poi però, alzi la mano di non poter quello, finito il rosario, no, finito il rosario, ti senti l'invigorito, senti proprio, che da te stesso, non è che dall'esterno, ma da te stesso, dal tuo cuore sforga, la luce, la pace, la forza, per andare avanti, ecco, Santa Giuseppina Patita, e Santa Bernadette di Lund, ci ricordano questa verità, anche nel dolore, quello che importa, è che continuiamo a pregare, che la preghiera sia il ritmo, che scandisce le nostre giornate, vorrei concludere, con un'ultima suggestione, fatta dall'opposta, che ho fatto stamattina, sulla preghiera del cuore, quando ho scritto, sapete che, appunto, uno dei monaci russi, uno dei monaci russi, Silvano del Monte Apost, mentre faceva la preghiera del cuore, nascondeva, ad orologio, i battiti, delle lacette, in un armario, e poi si copriva col capuccio, sia agli occhi, che, e l'agli viso, perché? Perché si, come dire, si concentrava su Dio, allora non siamo, non è la preghiera, che è tra noi, capite? E' una cosa molto bella, non è Dio che ci visita, siamo noi, che abbiamo da Dio, entriamo con la preghiera, nel mondo di Dio, e veramente così, noi dobbiamo imparare, come faceva Santa Patita, la trovavano sempre in preghiera, capito? Faceva i lavori più vivi, ma Santa Patita, era sempre in preghiera, stava sempre in colloquio con Dio, ecco che cos'è la preghiera, è un colloquio d'amore con Dio, un colloquio d'amore con Dio, e questo dialogo incersante, personale e intimo, c'è la forza, c'è la pace, c'è la luce, c'è la grazia, e c'è la gioia, e soprattutto c'è la forza, per curare le ferite della vita, e per non arrendersi mai, mandando sempre in avanti, secondo la volontà del Signore, nostra Signora di Lourdes, prega per noi, Santa Giuseppina Patita, prega per noi, San Giovanni de Mata, prega per noi, laudetur di Esus Christus.